Si chiama Futuriamo ed è l'associazione politica inaugurata in queste ore dall'ex consigliere provinciale ed ex sindaco di Arpino Fabio Forte. La sede è a Frosinone e punta ad aggregare soggetti provenienti da diverse esperienze politiche, tutte di matrice moderata e cattolica. Nel presentare Futuriamo, Forte ha sottolineato che l'associazione nasce per rispondere alla crisi di identità presente negli attuali partiti politici, alla degenerazione del sistema partitico, alla mancanza di risposte della politica di fronte ai problemi dei cittadini. A presiedere Futuriamo è lo stesso Fabio Forte, affiancato alla vicepresidenza da Iris Volante, che è stata più volte amministratore comunale di Cassino e più recentemente commissario del Parco degli Aurunci. Sono 12 i membri del comitato direttivo, tutti provenienti da diverse aree della provincia di Frosinone. La somma dell'esperienza di ognuno, ha sottolineato Forte nel suo intervento, costituisce la nostra ricchezza, il nostro patrimonio intellettuale e di vita vissuta all'interno delle istituzioni e dei movimenti politici tradizionali. Forte ha tracciato la rotta politica, sostenendo la necessità di portare avanti con Futuriamo un dialogo di contenuti e di proposte senza demagogia e senza populismo. I giovani soprattutto le debbono al vicino.